Che cos'è la RSI Gumbot? Lo scopriamo insieme su questo video. Bene, qualche giorno fa è apparso su Spectrum un post di un player che chiedeva alla community come mai non ci fossero navi in gioco con l'aspetto dei vecchi galeoni di qualche secolo orsono e con armi disposte ai fianchi dei lati della nave, definendo questo tipo di nave Gumbot sul titolo del post. La CIG, inaspettatamente, ha cancellato il post facendolo sparire. Ovviamente a questo punto la curiosità è aumentata agli occhi di qualcuno, e chi meglio della community di Star Citizen Leaks, dove il nostro haters ha trovato questo modello in Greybox in via di sviluppo, che si chiama RSI Odin. Proprio così, Odin, come Odino, il padre di tutti gli dèi nella mitologia nordica. È una classe Corvette, puramente militare, lunga circa 115 metri ma molto più larga di un Umbered. Non ha spazio per hangar, navette e riparazioni. Dal modello notiamo subito due grosse torrette con armi size 7 sopra e size 5 sotto. Vediamo parte di quello che sembra un landing gear. La nave ha anche due grosse cabine. Forse la prima è il di comando principale. E quella superiore dovrebbe essere quello secondario. È una nave simile alla Polaris in stile RSI, con qualche elemento della Bengala. Nulla a che fare però come cutter. Vediamo molte corazzature. Sarà sicuramente una nave molto pesante. Si presuppone infatti che la nave abbia delle armi laterali di tipo Raygun montate sotto gli scudi, che vediamo qui. È una nave molto ben rinforzata, forse anche per supportare l'enorme rinculo delle armi Raygun. La nave non apparirà direttamente su squadron 42 dalle prime indiscrezioni e sembra che uscirà a flight ready prima che dopo. Il prezzo del concept della RSI Odin, così come per le sue controparti Nautilus, Umbered e Polaris, dovrebbe girarsi intorno ai 600 dollari e forse intorno ai 750 flight ready. Con questo è tutto. Vi invito a lasciare un follow al mio canale YouTube. Controllate anche il mio canale Twitch che trovate in descrizione, dove eseguo streaming regolari su Star Citizen. Rimanete sintonizzati per nuovi video e novità in arrivo. Come sempre, fly safe, love and peace. Grazie.